Musica E' stata fermata in Germania Carola Racchete, l'ex capitano della Sea-Watch 3. Carola era già stata arrestata in Italia durante la difficile questione dello sbarco dei migranti. Secondo quanto scritto dai media tedeschi, Carola sarebbe stata fermata insieme ad alcuni attivisti ambientalisti. Dopo scontri con la polizia nella foresta vicino a Homburgholm, nella Germania orientale, la donna manifestava insieme ad altri attivisti contro l'abbattimento di alcune querce centenarie per permettere il prolungamento dell'autostrada A49. Sempre secondo i media tedeschi, poche ore fa è scattato l'arresto. Grazie a tutti!